Spacciava cocaina nella bassa Bresciana e aveva un grosso giro di clienti in manette finita una 49enne residente ad Oflaga ma che si era stabilita ad Isorella. Da tempo i militari delle stazioni di Calvisano e di Isorella seguivano i suoi spostamenti per accertare alcune segnalazioni secondo le quali la donna era una spacciatrice di grandi quantità di cocaina. Dopo due mesi di indagini i carabinieri sono entrati in azione venerdì 4 giugno mentre stava rientrando nella sua abitazione. Con sé aveva quattro dosi di cocaina già confezionate che stava trasportando per la vendita. A casa sua i militari durante la perquisizione hanno trovato nascosta in numerosi punti e mobili della casa tra cui doppi fondi e cassetti segreti ben 850 grammi di cocaina. Visto l'ingente quantitativo l'appartamento è stato ispezionato palmo a palmo e in un intercapedine del comodino i carabinieri hanno trovato circa 13.000 euro in contanti probabilmente provento del giro di spaccio. La droga e i soldi sono stati sequestrati. La 49enne è stata portata in carcere a Brescia dove si è svolta l'udienza di convalida.